Si è celebrata questa mattina la ricorrenza per il primo anno di attività del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Venafro. Nel clima di festa della Sala Consigliare del Comune, diverse le autorità presenti all'evento. Un anno fa il taglio del nastro per l'inaugurazione della sede del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Venafro. E il clima di festa di allora si rinnova oggi per la celebrazione del primo anno di attività di quella che è la prima sede volontaria della Regione Molise. Una sede a servizio di un vasto comprensorio che rappresenta un importante presidio dello Stato sul territorio e che consente all'impresa e ai cittadini di avere una rapida risposta sia nel campo della prevenzione sia rispetto alle non poche esigenze che un territorio vulnerabile come il nostro comporta. Nato come presidio estivo, il distaccamento è quindi diventato un'attività stabile. Un investimento sul territorio dall'importanza strategica che oggi, nella Sala Consigliare del Comune di Venafro, ha riunito sindaco, amministratori locali del territorio e dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Regione. A inaugurare l'anniversario, il saluto di Luigi Giudice, comandante provinciale di Isernia, il quale ha illustrato ai presenti il significato e il ruolo svolto dai distaccamenti volontari nel sistema regionale. Il distaccamento Vigili del Fuoco volontario di Venafro è guidato dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Quindi è il personale di ruolo che guida il distaccamento volontario. I volontari sono di supporto alla componente di ruolo e consentono quindi una presenza sul territorio, ma non sono sostitutivi, bensì di ausilio, perfezionano probabilmente o completano gli interventi, mentre la squadra di ruolo ha la possibilità di recarsi anche su altre attività e situazioni che dovessero nel frattempo manifestarsi. E il raggio d'azione del distaccamento volontario di Venafro? Sono i comuni limitrofi, oltre Venafro, quindi i comuni da Sesto Campano, Conca Casale, Montaquila e così via, i sei comuni che costituiscono il comprensore di attività. Ovviamente in caso di necessità possono anche andare al di fuori, ma sempre guidati dalla sala operativa 115 e sempre sotto la direzione della componente professionistica del Comando Provinciale di Isernia. A seguire, l'intervento di Salvatore Ciocca, consigliere regionale con delega alla protezione civile, che ha definito la creazione di questo distaccamento un risultato ascrivibile all'abilità di tanti soggetti istituzionalmente coinvolti e che di fatto obbedisce al principio costituzionale di reale collaborazione tra le istituzioni. I risultati ottenuti in questo primo anno di attività sono stati affidati invece al capo distaccamento Giovanni Di Florio, tra i presenti anche Claudio Manzella, direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, e il sindaco di Menafro Antonio Sorbo, che tutti insieme hanno espresso parole di vivo ringraziamento verso quanti hanno contribuito al raggiungimento di tale obiettivo e tra questi il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. A concludere il dibattito, le riflessioni sulla sicurezza locale, affidate naturalmente al prefetto di Isernia, Fernando Guida.